Come anticipato, lo scorso giugno in Consiglio Comunale di Porto Torres la nuova disciplina della tassa sui rifiuti tari decisa dal Governo nazionale ha provocato aumenti per i residenti delle città industriali. L'amministrazione comunale sta mettendo in campo due misure per sostenere i costi aggiuntivi affrontati dalle imprese e dalle famiglie. Nel primo caso, l'amministrazione ha previsto una riduzione della tari pari al 30% dell'importo dovuto per l'anno 2021 da applicare alle attività economiche che hanno subito una diminuzione del fatturato dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell'anno 2019. La seconda opportunità si rivolge invece alle famiglie che ricorrono ai benefici del Fondo di Solidarietà Alimentare che è stato incrementato per consentire alle famiglie di ricevere oltre a quelli alimentari un ulteriore voucher per il pagamento delle utenze tra cui la tariffa rifiuti. Le imprese interessate alla riduzione possono presentare la domanda entro il 2 dicembre attraverso lo sportello telematico. Grazie. Grazie a tutti.